Ancora tutti in discesa i dati della pandemia in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.404 nuovi casi a fronte di 15.636 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende rispetto a ieri e oggi si attesta poco più del 15%. 637 nuovi contagi attribuiti alla provincia di Bari, 604 in quella di Lecce, 346 nel Tarantino, 316 nel Foggiano, 244 in provincia di Brindisi e 176 nella Bat. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.415.878. Si aggrava ancora il conto dei decessi con altre sei vittime del virus. La somma complessiva sale quindi a 8.876. Continuano le buone notizie sul fronte sanitario. Ad oggi sono 422 i pazienti ricoverati, in area non critica meno 11 unità rispetto a ieri, mentre sono 17 le terapie intensive occupate. Continua invece l'aumento dei negativizzati, circa 4.300 per la Puglia secondo i dati del bollettino odierno, un valore che fa scendere ancora gli attualmente positivi che ad oggi sono 46.894.